La usano, che bel nome vero? La usano per tagliare gli eccessi? Ma io vi domando, esistono eccessi per la scuola? No! Esistono eccessi per la sanità? No! Per l'istruzione? No! Per la ricerca? No! E tutti questi soldi li danno alle scuole paritarie, le scuole cattoliche? No! Sono ignorati! Lo hanno a livello di giしょini inferiori al nostro! Le scuole partichee! Le scuole pubbliche, alla nostra scuole catolica, li danno alle difficoltà, i suoi monitor dei borders e i nostri sono bigliori le scuole paritarie! Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Siamo nel 96% degli studenti d'Italia. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì.